Siamo arrivati anche noi a Bayona come la caravella La Pinta di cui c'è una ricostruzione qui davanti a noi ci sono delle spiagge qua in città ed un castello e noi ora andremo in spiaggia perché finalmente inizia la nostra vacanza vera tre giorni di mare spiagge relax Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti